Nella sua nota l'ex sindaco di Erice nell'augurare buon lavoro a Musumeci affronta diverse questioni, a partire dalla vicenda del co-marketing a sostegno dell'aeroporto di Birgi. Purtroppo, ed in conseguenza della pilandelliana vicenda interessante la soppressione dell'ex provincia, i comuni del Trapanese, scrive l'ex sindaco di Erice, primo dei non eletti nella lista del PD alle scorse elezioni regionali, in via sostitutiva sono stati chiamati a fare colletta milionaria per assicurare azioni di co-marketing tendenti a far volare il turismo, che ad oggi rappresenta la prima e naturale industria socio-economica del Trapanese. Tranchida chiama in causa i comuni di Trapani e Castelvetrano, al momento commissariate, che si sono tirate fuori dall'accordo ricordando come il 30 novembre scada il termine ultimo per le variazioni di bilancio annuale triennale 2017-2019. Tranchida ha quindi sollecitato il tempestivo intervento dal nuovo presidente della regione, invitando Musumece a venire ad Erice per fare anche il punto con altri comuni del Trapanese sui problemi esposti nella sua lettera all'ineo governatore, tra cui la vicenda legata alla spesa dei fondi comunitari, le politiche regionali nella gestione dei rifiuti e la questione del servizio idrico ex EAS. L'ex sindaco in questi giorni è tornato a parlare di sanità, proponendo un incontro per parlare dell'iter per la realizzazione del servizio di radioterapia e dell'ampliamento del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abatea. Il Consiglio Comunale della Novità ha approvato la variante urbanistica per consentire la realizzazione della tanto attesa e le superficie. Peraltro ci siamo ritrovati in maniera unitaria nel dire che convochiamo adesso i vertici dell'AS per capire a che punto siamo con la radioterapia. Su questo il Comune anni fa aveva addirittura ceduto una strada per consentire l'ampliamento dell'ospedale Sant'Antonio, per realizzare anche questo nuovo servizio, purtroppo è me disgraziatamente utile e necessario per le nostre comunità, per la radioterapia. Bisogna potenziare il pronto soccorso così come non va e poi vorremmo anche capire che cosa ha intenzione di fare la Regione, l'ASP, di questo monumento del fallimento del sistema sanitario in Sicilia che è rappresentato, piaccia o non piaccia, dall'ex ospedale Rocco Larussa in condizione di abbandono da almeno 25-30 anni. Grazie a tutti.